Ciao a tutti, sono Roberto Frigerio, lavoro per la SLT di Monza, che è l'azienda che offre i servizi tecnici per la LT, sempre di Monza. La LT è l'azienda che importa i prodotti della BSS. Quello che stiamo facendo qui oggi è un corso di formazione per gli utilizzatori di questi tipi di macchine, un corso che è stato programmato dalla BSS, che si svolge su due livelli. Quindi questo è il giorno 1 del livello 1, quindi un corso prettamente introduttivo sull'utilizzo delle macchine. Se siete interessati ovviamente ai prossimi corsi, sul nostro sito e anche sul sito della BSS ci sono le date e i luoghi dei prossimi corsi. Quello che è stato fatto oggi è una presentazione PowerPoint di tutto quello che sono i prodotti di BSS, quindi una panoramica su tutto ciò che BSS fa e che permette di fare. Poi un corso di utilizzazione invece utilizzando principalmente tre tipi di prodotti, che sono il Blue Bib, Break In Box, il Blue Bob, Break Out Box e il Blue 100. Il Blue 100 è il dispositivo entry level della fascia della famiglia London Architect. In più abbiamo anche presentato l'utilizzo di tre tipi di controller per questi sistemi, il Blue 8, un controller remoto via rete, il Blue 6 invece è un controllo via contatti elettrici e il Blue 3 che è il controller più piccolo, anche questo per i contatti elettrici. Diciamo che il corso ha come obiettivo quello di riuscire a dare un po' di pratica ad un utilizzatore inesperto sull'utilizzo del London Architect, che è il software di programmazione di queste macchine e su come puoi utilizzare il London Architect per creare dei sistemi di controllo per poter poi controllare effettivamente queste macchine. Grazie mille, ciao a tutti.